Ciao, sono Marina Sagona. Io sono Riccardo Venturi. Ciao, buonasera, sono Luigi Gherietti. Ciao, sono Sara Svensson. Buonasera, sono Francesco Genuerti. Ciao, sono Elena Tazza. Ciao, sono Isabel, mi chiamo Isabel. Io sono Gianni. Sono un giocista e mi chiamo Alessandro e mi sono un giocista. Il Talantismo Il Talantismo è un giocista di loro. Il Talantismo Siamo fatta la rivoluzione femenina è la maggior parte e la più substanziazione che questa terra ha mai visto nella storia dell'umanità senza combattare una bulla. Sono venuto da Roma a Galatina, qui a Domus, per parlare del mondo infero, non è una ricerca legata al tarantismo ma è legata a quei luoghi nascosti che hanno un carattere fisico quanto psicologico. Questo concepto è liato a una regione, Salento, e questo concepto è miso, è visibilizzato attraverso il rituelo dell'intervento. Sono Helio Domus per presentare il mio video Self Portrait, come dice il titolo è un autoritratto, ma è un autoritratto con l'interposta persona, ci sono altre persone che parlando di sé parlano di me e quindi attraverso i loro ritratti si compone il mio autoritratto. Le grandi gallerie di questa stupenda capitale barocca della Puglia, il fatto di essere aperti al mondo internazionale, questa cosa tipicamente italiana, di essere proiettati nel Mediterraneo in un solo, come ci hai detto, e poi il fatto di usare l'arte come strumento di dialogo. La diplomazia italiana, cioè chi serve lo Stato fuori dai confini dell'Italia, ha la consapevolezza che l'arte sia non solo parte della nostra identità, tradizione, storia, ma sia come uno strumento italiano anche di interpretare la complessità, come tu hai scritto, della vita mondiale e internazionale di questo periodo.